Tra le diverse interrogazioni presentate anche nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, anche una che riguarda la decisione dell'amministrazione di consentire l'apertura di una terza farmacia nella cittadina, in particolar modo nella zona delle Fiorine. Cosa non vi convince? Allora, la prima cosa è una questione di metodo, nel senso la decisione è stata presa in fretta e furia in relazione al bando della Regione Lormardia che era in scadenza. Detto questo, questo bando della Regione Lombardia prevedeva che i comuni sopra i 9.900 abitanti erano obbligati ad aprire una farmacia. I comuni sotto i 9.900 abitanti e con particolari requisiti, tra i quali anche Clusone, poteva aprire una terza farmacia. Il problema è che questo concorso è un concorso solo per titoli. Essendo un concorso solo per titoli, la persona che si presenta con i titoli maggiori, diciamo legittimamente, apre la sua farmacia e il comune non avrà nessuna entrata. D'altro canto si poteva agire in altro modo, voglio dire. Prima di tutto coinvolgere anche la minoranza ed eventualmente anche i farmacisti di Clusone, cosa che noi adesso proporremo con una specifica mozione d'intesa anche con le altre minoranze. Vogliamo appunto creare un tavolo di lavoro, maggioranza e minoranza, i farmacisti per decidere la soluzione migliore. A nostro avviso la soluzione migliore è questa. Ogni due anni la Regione Lombardia prepara un piano farmacie. Il comune Clusone può aderirci, quindi l'anno prossimo può aderire tranquillamente e avere in prelazione la farmacia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il comune Clusone può aprire la farmacia lui come comune o, dato che comunque per il discorso del bilancio non può assumere altri dipendenti, lo potrà fare tramite una società partecipata oppure una società creata ad hoc. Eventualmente si potrebbe valutare, stiamo studiando anche altre forme di partecipazione pubblico privato magari miste, coinvolgendo anche i farmacisti di Clusone se la cosa fosse possibile. Detto questo c'è stato risposto in consiglio comunale con delle motivazioni prettamente ideologiche, nel senso che tutto quello che è pubblico è sbagliato, tutto quello che è privato va bene. Io dico stiamo sul concreto, dipende. Io ho lavorato dieci anni a Sovere. A Sovere c'è una farmacia di proprietà della casa di riposo del comune di Sovere che da 30 anni gestisce la farmacia con ottimi risultati, ha assunto delle persone, ha degli utili, il comune ci guadagna tutti gli anni. Dico un'altra cosa, la farmacia di Sovere gestiva anche la farmacia di Pianico fino all'anno scorso. A un certo punto il comune di Pianico ha deciso di mettere all'asta la propria farmacia, cosa che dopo un po' di anni anche il comune di Clusone potrebbe fare nel caso avesse una farmacia comunale, cioè la gestisce per un po' di anni e mi sembra dopo una decina di anni può metterla eventualmente in vendita. Bene, il comune di Pianico ha messo all'asta questa farmacia, base d'asta un milione di euro, è stata giudicata l'anno scorso a un milione e diecimila euro. Il comune di Pianico ha introitato un milione e diecimila euro. La nostra amministrazione non può rinunciare a un introito così importante. È vero che sarà dilazionato nel tempo, è vero che aprire una farmacia comunale crea qualche problema, ma dobbiamo assolutamente non perdere questa opportunità e questo introito importantissimo. Lo ripeto, questo è un altro appello propositivo che vogliamo fare nell'interesse della nostra città.